Ragazzuoli, piccola intro prima di iniziare, giusto per contestualizzare quello che andrete a vedere tra pochissimo È un video in cui non giocherò, semplicemente seguirò uno dei player più forti che abbia mai matchato in QP Sono morto, notato che questo mio compagno aveva qualcosa di particolare E quindi ho iniziato a seguirlo e ho veramente imparato tante cose ragazzi Se siete d'accordo con me sul fatto che questo sia uno dei player migliori Vi invito a lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al canale, commentare qua sotto con la vostra reazione E non parlerò nel video, semplicemente sarò io che seguirò questo player ragazzi Quindi ragazzi, non ci perdiamo in altre chiacchiere, buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti